Musica Bentornati a Football Benchmark Oggi parleremo soprattutto di Inter Vorremmo capire l'impatto che ha avuto su Ninghe all'interno del mondo neroazzurro E come al solito lo facciamo in compagnia di Andrea Sartori Global Head of Sports di KBMG Che ci ha portato un sacco di dati sulla società neroazzurra A partire dall'era Moratti Perché fondamentalmente negli ultimi anni l'Inter ha vissuto una serie di cambi di proprietà Che hanno sicuramente inciso all'interno dell'evoluzione dei fatturati e della società stessa Però a partire proprio dal 2010, quindi dall'anno del triplete Abbiamo avuto questo tipo di situazione Spesso si dice, Andrea, che vincere aiuta a vincere anche per gli incassi Nel caso dell'Inter questo diciamo che non si è tramutato in realtà O perlomeno non è stato possibile farlo Forse questo mi lo direi tu fino all'arrivo di Suning Sì, anche perché poi diciamo se guardiamo questa grafica C'è una relazione tra i ricavi totali Ma anche poi la performance sportiva e la posizione in classifica negli anni E vediamo che nel post-triplete l'Inter chiaramente non ha raggiunto dei risultati molto soddisfacenti A livello nazionale, quindi i fatturati sono diminuiti Però come vediamo nel primo anno di Suning Il fatturato è cresciuto di oltre 80 milioni Un più 44% rispetto alla stagione 2015-2016 È la prima volta che l'Inter torna come fatturato sopra al dato del triplete Esatto, esatto Questo però deriva anche dal contributo a livello commerciale portato da Suning Che penso andremo ad analizzare nella grafica successiva Però vorrei anche sottolineare il fatto che oltre a questo contributo Non dobbiamo dimenticare che Suning ha contribuito con un forte aumento di capitale E con un prestito soci che ha aiutato a finanziare l'Inter E soprattutto le campagne acquisti degli ultimi due anni Ecco, tu facevi riferimento ai ricavi commerciali Sono cresciuti soprattutto nell'ultimo anno in maniera esponenziale Nonostante ci siano stati dei minus rispetto agli sponsor tecnici più importanti Pirelli non c'è più, Nike credo che abbia diminuito il proprio contributo all'Inter C'è stato però un apporto da parte di Suning molto forte Anche come brandizzazione dell'Inter Questo ha fatto la differenza probabilmente Sì, ci sono prima di tutto 35 milioni che come si dice in inglese sono un once-off Cioè o signing fee che sono stati praticamente un contributo di Suning nel primo anno E ci sono stati degli altri contributi a livello di commercializzazione e sponsorizzazione Come il Nemi Right di Appiano Gentile La sponsorizzazione della divisa di allenamenti E il branding di alcuni prodotti di Suning in Cina Che hanno contribuito praticamente a aumentare i ricavi commerciali in maniera significativa Però ci sono stati anche degli altri accordi commerciali fatti con un'altra società cinese Per praticamente la commercializzazione del marchio Inter in diversi paesi dell'Asia Che hanno contribuito in maniera positiva Quindi in totale 83 milioni di euro in più 83 milioni di euro in più però tendo a sottolineare questi 35 milioni Che non sono una cifra diciamo ricorrente E che in un certo senso sottolineano l'importanza per una squadra come l'Inter quest'anno Di centrare la Champions League e quindi accedere ai diritti televisivi della UEFA L'altro grande tema su cui si dibatte quando guardiamo i bilanci delle società È la sostenibilità del costo aziendale Che fondamentalmente è dato dagli stipendi che vengono pagati dalla società È l'incidenza che ha questo costo rispetto al fatturato generale Che è anche uno dei punti su cui si focalizza la UEFA per il fair play finanziario E poi parleremo anche del fair play finanziario dell'Inter Anche qui l'Inter si dimostra estremamente virtuosa Al di là del fatto che in assoluto nell'andare del tempo Sono prima calati e poi riaumentati all'ordo gli ingaggi dello staff e dei giocatori Ma l'incidenza sul fatturato della squadra è andata sempre diminuendo È andata sempre diminuendo da tre anni al di sotto del 70% Che è il parametro raccomandato dalla UEFA È vero, in valori assoluti chiaramente sono aumentati Hanno anche investito su un parco giocatori di una certa importanza E poi c'è in un certo senso una peculiarità nel bilancio 2016-2017 Che non so quanto esattamente abbia impattato Ma a un certo punto l'Inter aveva quattro allenatori praticamente nel busta paga De Boer, Pioli, Mancini e nelle ultime giornate vecchie Sì, sì Questa decrescita dell'Inter poi rispetto all'incidenza del costo dello staff e dei giocatori all'ordo Si parametra anche con l'altro grande dato che prendiamo sempre in esame Quando cerchiamo di analizzare i bilanci delle società Ovvero la performance dello stadio, cioè il match day, il giorno della partita L'Inter ha uno stadio particolare, peraltro in questa stagione è andata molto bene Perché c'è stato spesso nelle partite più importanti il sold out Ma è uno stadio molto grande Quindi c'è una grande affluenza allo stadio Naturalmente dipende anche da come va la stagione sportiva della squadra Ma una percentuale di riempimento che non è all'altezza degli standard europei di eccellenza Sì, iniziamo a dire che l'Inter è la squadra che nell'ultima stagione ha avuto il più alto numero di spettatori In valore assoluto con circa 47 mila spettatori Però come tasso di riempimento dello stadio Meazza siamo ancora ben al di sotto del 60% Ma ciò in un certo senso deriva dalla dimensione chiaramente dello stadio E in un certo senso chiaramente dalla performance sportiva Poi magari parleremo nelle puntate prossime anche della possibilità, dell'opportunità dell'Inter Di fare uno stadio di proprietà oppure di condividere con il Mila San Siro Che credo sia un tema piuttosto interessante L'altro grande dato per quanto riguarda lo stadio è il costo a seggiolino Che anche qui credo che rifletta la grandezza di San Siro Sì, questo noi è un dato che guardiamo sempre con attenzione Perché poi è anche un parametro che è importante per una società Nel momento in cui va a dimensionare un nuovo stadio Tanto per spiegare agli spettatori Qui guardiamo il ricavo per seggiolino, la media per tutte le partite giocate Chiaramente se il seggiolino è pieno o praticamente è vuoto Però per capire un dato cosa vuol dire 16 euro a seggiolino Va messo in un contesto relativo e quindi paragonare ad esempio con i valori della Juventus Che sono intorno ai 50 euro al posto allo Juventus Stadium Per poi non parlare di altre squadre come ad esempio Manchester United Che è intorno ai 55 euro e il Chelsea a Londra Però c'è un effetto Londra direi che è di 80 euro Questo dipende però, correggimi se sbaglio, anche dalla capienza dello stadio Cioè la Juventus ha uno stadio più piccolo e quindi di fatto lo riempie sempre L'Inter ha di media almeno 20.000-30.000 seggiolini vuoti Questi naturalmente fanno media nel numero complessivo Sì, ne abbiamo parlato lo scorso anno in una puntata Appunto in cui parlavamo del discorso domanda offerta negli stadi Nel momento in cui tu hai uno stadio troppo grande È ovvio che per cercare di andare a riempire devi diminuire anche il prezzo medio La Juventus che ha uno stadio di circa 43.000 spettatori È in grado di tenere dei prezzi più alti E allo stesso tempo avere un tasso di riempimento che è ben superiore al 90% Per quanto riguarda i social media di cui ci stiamo occupando con maggiore attenzione Soprattutto in questa seconda stagione di Football Benchmark Come si posiziona l'Inter rispetto alle grandi? Allora, lasciamo perdere le grandi europee che si trovano alla sinistra di questa grafica Real Madrid e Barcelona Quasi 20 volte tanto 20 volte tanto, è semplicemente impressionante come ci fa Facciamo un paragone più che altro con le italiane Prima di tutto l'Inter ha raggiunto di recente la Roma Con un totale di follower sulle quattro piattaforme che monitoriamo di 12 milioni Però è ancora un terzo rispetto al Milan Che ha una visibilità internazionale derivante dai successi passati molto importante E un quarto rispetto a quella della Juventus che si attesta intorno ai 40 milioni Però devo dire che negli ultimi mesi c'è stato un focus importante da parte dell'Inter sui social media E per dire, faccio un esempio Inter Bells nel periodo di Natale su Facebook ha avuto un successo strepitoso Che ha aumentato il livello di coinvolgimento dei tifosi Magari una cosa che voglio menzionare che non appare in questa grafica Il calciatore più seguito dell'Inter è Icardi Con circa 4 milioni e mezzo, 4 milioni e 600 mila followers Però anche in questo caso bene dietro delle star del campionato italiano Come per dire Buffon che ha circa 13 milioni e mezzo O Dybala che è al top del campionato italiano con 18 milioni di followers L'ultima considerazione che facciamo rispetto all'Inter è l'Inter e il fair play finanziario Perché sappiamo che ne abbiamo parlato tanto anche negli studi di mercato Per riuscire a capire quali sono i margini di manovra di una società importante come l'Inter Nel 2015 l'Inter ha firmato il settlement con la UEFA che è tuttora in vigore Le sanzioni le conosciamo fondamentalmente Ma l'Inter nei confronti del fair play finanziario ha avuto una strada buona Nel senso ha mantenuto le promesse che ha fatto con il settlement Assolutamente Nel 2011-2012 l'Inter aveva una perdita di 85 milioni Che è passata nell'ultima stagione a meno 17 milioni Che a livello di UEFA viene considerata pareggio di bilancio Quando si fanno determinate considerazioni per quanto riguarda gli investimenti Nelle infrastrutture sportive e il settore giovanile La sanzione pagata dall'Inter è stata una multa di 6 milioni La perdita accettabile nella stagione 2015-2016 era 30 milioni Con il pareggio di bilancio ottenuto nel 2016-2017 E che dovrà essere ottenuto anche nella stagione 2017-2018 Al fine di uscire definitivamente dal fair play finanziario Quindi ancora per il prossimo anno l'Inter deve mantenere il pareggio di bilancio Deve mantenere il pareggio di bilancio Perde i 35 milioni a cui facevo riferimento precedentemente A livello di sponsorizzazioni E di conseguenza ribadisco che è fondamentale per l'Inter Cercare di partecipare alla Champions League dell'anno prossimo L'ultima domanda Il futuro dell'Inter con Zuling quindi com'è? Diciamo che l'Inter è sulla retta via Però c'è a mio avviso una spada di Damocle Un dubbio che riguarda la possibilità di esportare del capitale dalla Cina Che in un certo senso potrebbe impattare negativamente nel futuro Certo che se ci saranno dei risultati sportivi E l'Inter diventerà indipendente a livello finanziario Ovviamente la squadra potrebbe avere dei risultati molto positivi E anche qui torniamo alla necessità di fare risultati Che permetteranno poi il volano positivo eventualmente per la costruzione della squadra Ci vuole il risultato sportivo per poi andare a ottenere dei ricavi Che consentano di fare investimenti e di conseguenza continuare a vincere Grazie allora Andrea Sartori L'appuntamento con Football Benchmark alla prossima settimana